Tutto inizia dal sogno di un uomo che si chiamava Giulio Ferrari. Lui riteneva che ogni bottiglia per meritare il suo nome dovesse essere come un'opera d'arte. E dopo la seconda guerra mondiale, non avendo figli, dovette cercare qualcuno che potesse portare avanti il suo sogno e la sua visione. Scelse mio nonno Bruno Lunelli come suo successore. Le cantine Ferrari sono poi cresciute moltissimo ma senza mai scendere a compromessi con la qualità. E a noi piace dire che Ferrari è diventato un po' il brindisi degli italiani per eccellenza, perché con Ferrari si è brindato a tanti dei più importanti eventi del mondo e delle istituzioni, dello spettacolo e dello sport del nostro paese. Oggi la nostra sfida è innovare nel solco della tradizione. La qualità del Trento Doc è sempre più riconosciuta e recentemente a Londra abbiamo vinto il titolo di produttore dell'anno nella più importante competizione che è riservata alle bollicine. Essere imprenditore per me significa portare avanti con tanta passione e con orgoglio quella che è una tradizione della mia famiglia e del mio territorio e avere l'opportunità di portare in tutto il mondo l'arte di vivere italiano.